Buongiorno, sono Matto Carreri, titolare della Carreri, esclusivista della birra teresiana per Roma, provincia e parte del Lazio. La birra sicuramente è un prodotto importante all'interno della tua attività e mi chiedo, che birre stai lavorando? I classici marchi, quelli più conosciuti? Sicuramente più facile perché la gente te li chiede, ma sicuramente non personalizza il tuo locale, non fidelizzi i tuoi clienti perché sono birre che trovano dappertutto e probabilmente le trovano anche in grande distribuzione a prezzi notevolmente più bassi. Proprio per questo bisogna fare una proposta differenziale, proprio per questo Teresiane ti propone qualcosa di diverso. Teresiane parliamo di una birra italiana, anche se c'ha questo nome strano con il TH, perché risale all'impero assongarico con Maria Teresa d'Ausso. Infatti aderisce alla legge della purezza del 1516. Ha una lunga storia, ha una lunga tradizione, parliamo di Trieste. È una birra che strizza l'occhio alle birre artigianali per la scelta delle materie prime, per la tecnica con cui vengono fatte, ma per la tecnologia invece strizza l'occhio all'industria. Che cosa mi comporta? Mi dà una garanzia, mi dà una costanza di prodotti, mi dà una qualità, ma soprattutto scadenze anche lunghe. Mi dà un'ampia gamma di prodotti, addirittura da una bassa ad un'alta fermentazione. Proposte le birre nei diversi formati, dunque nei fusti, ma fusti più piccoli, da 20 litri, proprio per preservare maggiormente la qualità. E proprio su questo concetto Teresiane ti propone i polycake, quella nuova tecnologia, quei nuovi fusti dove l'anidride carbonica non entra mai in contatto con la birra e dunque si riesce a preservare nel tempo. Dopodiché ti propone i diversi formati, le bottiglie da 33, da 750 e ultima nata le 0,50. È ovvio che ti proponiamo gli impianti della birra incomodato per fare un ottimo servizio di spillatura. È ovvio che ti proponiamo una carta delle birre, sia alla spina, sia in bottiglia, perché Teresiane ha un'ampia gamma di prodotti. Corsi di formazione, ma soprattutto la birra può entrare anche da protagonista in cucina. I nostri sommiglie della birra ti faranno tutti gli abbinamenti ai tuoi piatti. Se vuoi conoscere di più, se sei interessato a questo magnifico mondo della birra, ma soprattutto di Teresiane, e se vuoi affidarti ad un esperto, puoi dare i tuoi dati, iscriverti alla pagina qua sotto. Un mio collaboratore ti contatterà quanto prima per darti tutte le dovute informazioni e per rispondere a tutte le tue domande. Spero di incontrarti presto per bere una buona, fresca birra Teresiane. Spero di incontrarti presto per bere una buona, fresca birra.